Allora, siamo appena tornati a casa, siamo andati in toilettatura a far fare un tagliettino alle unghie della Lola e siamo tornati e sono tornato abbastanza, posso dirlo, incazzato. Incazzato perché? Perché abbiamo scoperto che una coppia di persone di una certa età hanno portato un cane, un cane di 14 anni, un bellissimo maltese tra l'altro che l'ho visto, l'abbiamo visto, un maltese di 14 anni per fare una toilettatura e peccato che alla sera sono tornati per riprenderlo e in realtà non l'hanno ripreso, anzi hanno portato anche una scatola con dentro tutti i suoi giochini, con tutti i suoi averi e l'hanno lasciato lì, l'hanno lasciato lì. È un cane meraviglioso, bellissimo, è ovvio, ha 14 anni, ha qualche problema, inizia ad avere qualche disfunzione renale, non è castrato e ha un problemino anche alla gola, ma come tutti i cani di una certa età incominciano ad avere qualche acciacco, no? Beh, alla fine comunque è rimasto solo. Fortunatamente i ragazzi della toilettatura, che sono dei santi, l'hanno tenuto in questo momento con loro. Una ragazza lo sta portando a casa, ma non lo può tenere perché ha anche altri cani, ha dei gatti e tra l'altro è un maschio, quindi a questa ragazza c'è un altro maschio, quindi non vanno molto d'accordo. E loro assolutamente non vogliono portare un canile, non vogliono perché ha 14 anni, ragazzi, ha 14 anni ed ha tutto il diritto di finire gli ultimi anni nel miglior modo possibile. Noi di Canegati TV Channel daremo parola e occhi a questa situazione, la nostra speranza che già entro fine settimana Oscar, perché si chiama così, possa trovare una nuova famiglia che lo possa tenere, che lo possa accudire, che lo possa amare come giusto che sia. Se state vedendo questo video, magari scrivete qui sotto nei commenti o magari cliccate su questo link per entrare nell'email o scriveteci in direct. L'email è a redazionechiocciolacanegatitvchannel.com e noi vi metteremo in contatto direttamente con il negozio di toilettatura. In questo momento si trova a Monza e se qualora non venisse ancora trovata la soluzione, noi siamo pronti a intervenire con le telecamere per fare un servizio degno di nota per cercare di trovare una situazione nell'immediato, subito. Perché questo cane, perché Oscar ha tutto il diritto di fare una sua vita, gli ultimi anni della sua vita, nel miglior modo possibile. È veramente un cucciolone simpaticissimo, è veramente molto molto simpatico. Speriamo veramente, mettiamo una mano sul cuore e andiamocelo a prendere. Chiunque tu sia, vattelo a prendere perché veramente merita, merita, merita. Mi raccomando, scrivici in direct, manda un'email a redazionechiocciolacanegatitvchannel.com e noi saremo ben lieti di stringerti la mano, di farti un applauso, veramente, perché Oscar se lo merita. Grazie.